Allora adesso parliamo ancora di e-commerce con lo smartphone che serve anche per fare acquisti, sempre più italiani infatti comprano proprio grazie al telefonino e questo emerge dai dati dell'osservatorio e-commerce B2 Netcom del Politecnico di Milano. Sele Ghimaraes ha intervistato su questo Alessandro Perego, direttore dell'osservatorio digital proprio del Politecnico. Dati di mercato sull'e-commerce in Italia stanno andando parecchio bene? Direi di sì, la nostra stima sul 2016 è di un valore complessivo di 20 miliardi di euro che rappresenta il 5% del totale acquistato. Se continuiamo a crescere così in tre anni arriveremo a raddoppiare questo mercato e a rappresentare il 10% del totale acquistato dagli italiani. Vanno molto bene biglietti, biglietti ferroviari, biglietti aerei, biglietti per il trasporto, vanno molto bene prenotazioni camera alberghiere, quindi tutto il mondo del turismo, va molto bene anche il mondo delle assicurazioni online, va bene il mondo dei prodotti, informatica elettronica di consumo, abbigliamento e sta entrando finalmente anche l'alimentare. L'alimentare ha una serie di altri prodotti molto interessanti come l'arredamento, complementi di arredo, profumeria, cosmetica, giocattoli. Insomma è un fenomeno molto in fermento che sta finalmente crescendo dei tassi interessanti. Dov'è che ci sono ancora margini di crescita? Ma diciamo nella parte più di massa, la parte di abbigliamento e la parte di cibo. In questi due comparti la penetrazione è ancora molto bassa, cioè il peso dell'online sul totale acquistato è ancora nell'intorno dell'abbigliamento del 3% e per quanto riguarda il cibo sotto l'1%, ma queste sono le due categorie di spesa principali delle famiglie, quindi in quell'area c'è ancora tanto da crescere.